Ho ordinato del testosterone su un sito. L'ho provato poi e non ho sentito nessuna differenza. Io ero convinto che con l'epo invece l'effetto c'è. L'effetto doping c'è. Dovevo testare l'epo prima delle gare di Lugano e Ludince. Ho fatto la venti chilometri a Lugano. E' una prestazione assoluta. Uno vita a sette e trenta. E' stato spero. Ho fatto l'ultimo mille in 3.33. Hai fatto un mille singolo a 3.33 in vita mia quindi.